E ora musica, nuovo singolo per Marco Ligabue, fratello minore di Luciano, il protagonista di una lunga tournée. Sentiamo Leonardo Metalli. Ti sei fatto le ossa sui social, curando un po' le attività con il pubblico di tuo fratello Luciano Ligabue. Quindi questo per te è importante, è il contatto con la gente. Sì, l'ho sempre ritenuto importantissimo, penso che gli ho fondato il fan club quando era partito i suoi esordi, poi gli ho curato ultimamente anche i social, tutta la comunicazione. Il tuo ultimo singolo è Quante vite hai, la tua idea è quella di fare molti singoli per poi arrivare a un disco. Come si faceva negli anni 60, sì. Io ho già pubblicato tre dischi, però adesso, siccome secondo me viene valorizzata la singola canzone, proprio attraverso la TV, le radio, insomma attraverso anche i social, no? Secondo me valorizzare ogni singola canzone, secondo me oggi è più importante, quindi pensavo proprio di far uscire ogni tanto qualche brano, appena, insomma, c'è qualcosa di importante da raccontare e poi raggrupparle tutto in un disco che raccoglie questi singoli. Quali sono i commenti di tuo fratello Luciano in questa tua progressione, l'attività che poi è un po' di famiglia, diciamo? Ma Luciano è contentissimo, guarda, è venuto quest'estate in una tappa che ho fatto in Sardegna, è venuto a vedermi, è rimasto anche sorpreso, secondo me, perché ha visto proprio il rapporto che ha nelle piazze, no? Io e te con la vita abbiamo alzato il gomito, il gomito. È tutto, il TG1 torna domani mattina, buonanotte.